Come spieghi l'evoluzione dal tuo Barcellona a quello attuale di Guardiola? È difficile, lo dicevo prima, perché non ho visto gli allenamenti e molte loro partite. Ci sono cose in comune, ad esempio molti giocatori, specie gli spagnoli, sono gli stessi. Molte cose sono però cambiate, di certo sono cresciuti molto, hanno vinto molti titoli, penso abbiano fatto davvero un bel lavoro, specie Guardiola, sta facendo bene da quando è sulla panchina. Loro sono senza dubbio i favoriti, perché hanno vinto tre Champions negli ultimi 5-6 anni e quando hanno perso con l'Inter sono comunque usciti in semifinale. Certo, sono favoriti, ma stiamo cercando di fare anche noi del nostro meglio, come sempre. Siamo anche noi un'ottima squadra e sono felice di tornare qui. Si può vincere ogni partita, perché non possiamo fare un gol, vincere 1-0 e tornare a cena a casa con i tre punti? Siamo arrivati in 1-0 e tornare a casa. Siamo arrivati in 1-0 e tornare a casa con i treabili.